E ancora una volta l'associazione Mare Amico Agrigento a mantenere viva l'attenzione sui crolli della collina nei pressi del poligono di Drasi. Lo fa servendosi di un drone. Le immagini mostrano come ci siano dei nuovi crolli e questi, secondo Claudio Lombardo di Mare Amico, sono causati dalle esercitazioni militari. Da 60 anni, scrivono dall'associazione, è in esercizio il poligono Drasi. L'erosione costiera e le vibrazioni causate dalle esercitazioni militari provocano crolli e frane che stanno coinvolgendo anche la strada. Nelle foto e nel video di Eric Rizzo, prosegue Mare Amico, si notano i crateri causati dalle esplosioni, da dove prendono origine le frane. Un mese fa Mare Amico scriveva al governatore della Sicilia Rosario Crocetta. Nella missiva chiedeva ancora una volta l'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e il trasferimento in altro sito del poligono. Lombardo scriveva anche che il presidente Crocetta, unitamente all'assessore Croce e ai vertici dell'esercito, aveva dichiarato ampia disponibilità a individuare una nuova area dove effettuare le esercitazioni.